Non voglio ritornare indietro Questo vola con un cavallo, io che devo dire? Oh! Guardami! Pronta? Vai Steph, fai dei blocchi! No, per me, non ho mai trovato blocchi da quando sto giocando a questa... È caduto di sotto Cosa è successo? Perché non ho visto la scena Cosa è successo, Steph? È caduto di... Ma povero! Oh, Steph! Cavolo, con le urla strazianti! Ce li avete chiesti tantissimo in questo periodo E quindi siamo tornati con le Lucky Bedwars Quest'oggi ci sfidiamo uno contro uno Io e Fere, però ho trovato E sì, l'ho trovata io, non è di assistente segreto Quindi Sara sicuramente è bellissima, Fere Quindi no, non è vero Una mappa straordinaria Allora, abbiamo i villagers da chi comprare le varie cose Io e Fere no, quindi è inutile che mi saluti Perché lo sai che la render distance è sempre troppo più bassa Eh, la devi aumentare per spiarci, Steph Comunque, i villagers devono comprare le cose Isole, ovunque dove vedete ci sono dei Lucky Block Che sono particolari Si chiamano tipo Omega E hanno degli eventi e degli oggetti diversi da quelli normali Perché volevamo mettere un po' di pepe E infine qua Bisogna spammare e premere il bottone Per ottenere le risorse ovviamente per comprare Ovviamente, come le Bedwars classiche Se sali tutto sulle scale C'è una cesta con 5 Lucky Block Che ti puoi aprire E sperare di avere un po' di fortuna Vado subito Prima di iniziare con la battaglia Volevo semplicemente dire Che se non vi volete perdere nessun nostro video E se vi volete vedere altri Lucky Bedwars in futuro Iscrivetevi al canale Premete la campanellina Che in questo periodo YouTube non funziona bene E quindi è importantissimo Essere iscritti Se lo fate poi scrivete vero consolino Con l'hashtag in chat Nei commenti Esatto Che poi vi rispondono tutti gli altri consolini E fate tipo Bellissimo Sei pronta? Un omega di consolini Visto che siamo a te Oddio Fere no Era bellissimo No, questo era orribile Vado sul tetto e li apro Me li posiziono qua Io sto iniziando Steph E dai consolini omega Steph Lucky trader E fammi vedere che sei fortunato Ok 4 diamanti mi dai un altro Lucky Block Sei un po' caro amico Cos'è Chopzilla? Va Ho trovato Chopzilla Chopzilla è un Ti ha pestato? È praticamente un'ascia Mi sembra di gold Enchantata Penso che sia bella E si chiama Chopzilla Vabbè quindi In poche parole ti sei beccata la tua prima arma forte Non esplodere Esplodi vero Esplodi Sì esplodi Mi fai esplodere anche il Lucky Block Ok Era bucato tutto Ho fatto un buco nel soffitto Apro queste due e scappo Ok Non mi hanno dato niente C'è successo Steph? Stai bene? Sì Ok Sì Tutto a posto Ok Ho sentito un'esplosione Villager state bene voi? Forse Steph era un tuono Cosa pensi che sia stato? Era un tuono Sì sì Ah ecco Ok Un po' di nuvole oggi Ok Perfetto Perfetto Che stai combinando che sei zitto Quando sei zitto non mi piaci Parla Steph Sto affogando Posso stare zitto almeno mentre affogo? No Devo parlare Sempre Così Steph Cinque Lucky Block Affoghi prima Suiga assoluta Non ho trovato una singola cosa utile Un utensile Un'armatura Un'arma E ma non prendo danni? Perché? Cosa ho? Perché non prendo danni? Non lo so Steph Ma forse abbiamo tipo No Difficoltà hard Perché non sto morendo affogato? No raga Vi prego Allora voglio farmare un po' di gold Perché voglio delle golden apple Ah qua esci da tutte le parti Vai Ti odio gioco Ok Perfetto mi sa che sono obbligato tipo ad andare in game mode In creative Perché si è flippato il gioco No dai No no nessuna pozione per respirare sott'acqua O per subire meno danno E non muoio Va abbastanza strano però Non so non mi era mai capitato in vita mia Una roba del genere Vabbè va un attimo in creative E poi te la togli dai su Sì Boh Se no rimani bloccato all'infinito Esatto Cioè già Fede non so com'è messa Ma penso già benissimo Steph col chopzilla Qui si fa battaglia No vabbè ma credo che poi stai già farmando anche il lingo È terribile quella È terribile Steph cos'era? Scusa un alto tuono? Ma sta piovendo allora nella tua isoletta Eh Come si sta? C'è anche vento? Non risponde Guarda Ecco come si sta Fede Non risponde Guarda C'è una cascata Mi dispiace Allora facciamo così Facciamo così Poi qualcosa lì può essere anche fortunato Eh non è che per sempre Per forza sortuna Ovviamente Allora scusate un attimo Ah voglio vedere una cosettina Non ne posso più ogni volta di dover tornare Ok così Smeralda Perfetto Si sono rotti i bottoni Cioè? Per fare i lingotti Ah ah Come ti si sono rotti i bottoni Ma che hai oggi? Ma Steph Qualcosa di brutto Porca miseria ma che hai? Qualcosa di molto brutto Eh direi Allora questi non li posso prendere Infatti me lo ricordavo La sabbia sprofonda Quindi mi è inutile Faccio con questi Sì È l'unica chance che ho Ok Ma forse non posso proprio prendere Ah ah Ok Mmm Ehm Ferre come sei messa? Non te lo dico Cioè scusa Eh Ho bisogno di sapere come sei messa Cioè? Cioè se hai già i blocchi per andare negli altri isole Come va? Allora Dopo il Chopzilla non ho aperto altri lucky block Ok Ho farmato un po' di blocchi Ok E adesso sto farmando per il piccolo indiamante che ho appena conquistato Perché se no poi come gli prendo gli smeraldi Per prendermi la bedrock Ok allora Se non la trovo nei lucky block è difficile Perché devo pur sempre proteggere il mio letto Praticamente ti spiego Mi si sono rotti tutte le cose per ottenere dei lingotti Quindi io dai mercanti non potrò comprare nulla Tutti i lucky block sono andati a sfiga Non posso prendere i blocchi della mia isola Perché è bloccato dalla mappa stessa Posso andare in game mode e andare nella prima isola dove ci sono dei lucky block? Beh sì Grazie Altrimenti ho già vinto Cioè che dura due minuti sto video Volevo aspettare che tu arrivassi in un'isola Per quello ti ho chiesto dove sei No io sto andando adesso nell'isola Perché con i blocchi ovviamente Mi sono appena preso il piccone Quindi sto andando Ah Ma Che succede? Perché mi ha dato dieci diamanti? Ma li ho dati anche a te Erano miei Sì perché li ho uccelli anche io? Come è possibile? Perché li ho ottenuti io E quindi li ho dati anche a me? Non lo so Io Steph No era un tuono davvero Era il tuono questo? Ti dicevo Steph Tipo specchio riflesso Ma li hai dati pure a me Sai Io prima mi sono mandato Eh questa volta l'ho preparata io la mappa E si vede Si vede Porca miseria Quando non c'è la mano L'assistente segreto Si scarso a preparare le mappe Va bene Dai però è divertente così Dai almeno è imprevedibile Non so mai che ti capita È un po' strana Trovo diamanti E li do a te Certo che ti piace Un po' fatta da Steph Cioè capisci È molto Molto tuo stile Dai sì Fa pena questa battaglia Fa proprio pena Eh Ok Qua mi dice di stare fermo Finchè diamond non spawnano Funziona davvero così? Sì sì Funziona 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 Ehi Mi tocca riandare qua raga Basta però eh Mo sti esagerà Bene c'è Basta Mi prendono i fulmini Invece che degli Cioè mi basterebbe anche solo Avere dei blocchi Però non ho mai avuto Questa fortuna Grazie È un blocco di doro Che non posso prendere Ah beh Ora c'ho la luce Steph Eh Gli smeraldi Sì Come li faccio? No Ti ho dato Ti ho dato un fortuna No Sì Davvero La fortuna sorride a Ferrenichi Tutti ricevono la fortuna E io sono stato schiacciato Da un envil Ok Allora non sei stato fortunato Ok Io No la TNT Nel coso di diamante No È esploso tutto? No Ok Vabbè era un fulmine Sto spawnata in un posto strano Steph Ti prego Ah ok Cadi Pink player No ti prego Non mi potevi distruggere L'unica isola Utile Mi dava i diamanti Ok Io trovo diamanti Ma a che servono? Non lo so No mi ha Mi ha rotto il coso di diamante Perché li hai messi qua Però anche tu Steph? Che cosa? Il lucky block È fatta apposta Ma che è fatta apposta Sei davvero penoso Tu sei penosa Tu sei penoso Allora Avessi del legno Potrei craftarmi tutta la roba di diamante che voglio Ma non ce l'ho Non ho neanche una crafting table Vero? Sì esatto Ricordavo bene Quindi Ho 30 diamanti Che non posso usare Non ho ancora dei blocchi Ma i lucky block Non mi stanno dando niente di decente Comunque Solo tante esplosioni È per la prima volta Sono morta pure io Quindi non sta andando benissimo Mi dispiace Fere Lo so Allora Io faccio così Mi metto tipo lo spawn point qua Mi sembra l'unica soluzione Ok Torno in In coso In survival E provo a fare una partita In grazia di Dio Cioè posso avere Un po' di fortuna No Ok Sono caduti di soffi No No creeper Dai ti prego Non esplodere Via 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 tu Eh c'erano mostri Del deserto Molto cattivi Molto Ok Maledetti schifosi A me servirebbero Gli smeraldi Perché non trovo Degli smeraldi Cioè ho preso Anche il piccone Come li posso trovare Questo non me l'hai detto Steph La mappa è fatta da te Dovresti dire Che cosa vuoi? Gli smeraldi Gli smeraldi E li puoi trovare Dalle No mi servono adesso Eh guarda qua ce n'è uno Però io non lo posso prendere Da me Sono al centro della mappa Non è proprio Un posto bello Ciao Jeb Ok Ho buttato giù un mostro Perfetto Andiamo qua Scusi Scusi Non sono interessato Non ne voglio pesci Sì è molto bello Questo fortino di diamante Se io potessi Prendere i diamanti Se io avessi Un piccone Se io avessi Una vita Ma tu non hai una vita Steph Tu non hai una vita Your wish Come true Ok Qual è il tuo desiderio Steph Caro mio Steph Poter giocare questa battaglia E non averla persa Di base Di partenza Ok Tra poco ti supplico Di rompermi il letto Guarda Se continua così Anche perché Cos'è capitato Nulla Nulla è capitato No Dei blocchi Altro smeraldo Che non posso prendere Dei blocchi Un'arma Degli Ute Almeno Non sta esplodendo Superman Ho trovato Superman Fere Sta buono Io ho trovato Della TNT Steph Sta buono Superman Oh Ma sei da la mia parte O sei contro di me Cavolo Semmi tranquillo Non riesco a trovare Lucky Rabbit Accidenti Ok Che cosa posso fare Altri blocchi belli Tipo col diamante Mi dai qualcosa di interessante No Ti prego Ho vinto la lotteria Ho vinto la lotteria Steph ma perché Non si può comprare nulla Col diamante Vero È stranissimo Perché Non l'ho capito Puoi comprare Con smeraldi Ma non con diamante Sì ma Io che faccio Ho diamanti Gli ho ottenuti Ma adesso Senza smeraldi Come faccio Adesso dovresti Ok Andare ad ottenerti Degli smeraldi Ed esplodere Perché sono esploso anch'io Abbiamo condiviso L'esplosione Sì ma perché succede Sta roba Steph La devi smettere Stiamo rompendo il gioco Eh sì che lo stiamo rompendo Anzi Steph ha rotto il gioco Come sempre Ti dicevo Adesso che non posso Comprare niente con i diamanti Non trovo smeraldi Non posso andare avanti Capito Sì Ho già fatto tre isole Di lucky block Quindi non dirmi Continua a fare lucky block One is lucky One is not Beh Di sicuro Steph andrà bene oggi Questa è fortuna Che è successo? Che è successo? Queste tempeste Devono passare presto Fere Non vanno bene C'è brutto tempo Oggi Non vanno per niente bene Ok Io sto facendo esplodere tutto il centro Cioè avrò aperto 30 lucky block Ce ne fosse stato uno lucky Anzi 4 3 2 3 2 1 Parti Ok Spero che tu muoia Secondo me Ho tipo un Bellissimo Vieni Ciao Steph Non ho più blocchi però Per raggiungerti Quindi è un po' Dove sei Fere Qui in quest'isoletta Ciao Fere Ti ho avuto Ma che ci fai Steph È l'unica mia felicità Guarda Posso anche rimanere da te Pronta? Vai Hai preso danno Non so come Ciao Fere Aspetta Possiamo salire in due No Peccato E poi non credo Steph fai un po' di blocchi Voglio ritornare indietro Questo vola con un cavallo Io che devo dire Guardami Pronta? Vai Steph fai dei blocchi No Fere non ho mai trovato i blocchi Da quando sto giocando È caduto di sotto Cosa è successo? Perché non ho visto la scena Cosa è successo Steph? È caduto di Ma povero Oh Steph Cavolo Quelle urla strazianti No sei una persona terribile Sei davvero Una persona terribile Steph Ma proprio tanto Pensavo di aver trovato un amico No proprio tanto Steph Porca miseria Quanto fai schifo Io non ho parole Perché tutta questa sfida? Non ho parole Non ho parole Non è possibile Io non preparo più Omega Sì Aia Ma siamo amici? Dove sei? Fere c'è un tipo buio che mi picchia Fa bene Ma non esiste Dov'è? Dammi altri blocchi Ti butto giù Ok E cadi Ok mi dovrebbero bastare Si è sdoppiato Finito Ciao bello Ok ho portato fortuna Come avevi fatto tu prima Ok Buono E cadi E cadi E cadi Ok E cado E cadi E cado io E cade Steph E cado io Mi dispiace Ok 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 Pollo vattene Ma perché salto tantissimo? Mi hai messo qualche effetto strano Sempre tu Jump boost Ok Sempre colpa tua Ehm Steph il problema è Dici gli smeraldi blocchi? Eh Io li ho già trovati anche con Ok Con i lucky Non te li fa prendere Ah Ok Anzi Lo metto qua Ehm Fere Congratulazioni Hai vinto questa Lucky bad Dai non è che è finito Non ti ho ucciso Qua sotto compariranno dei video Steph Ma sto prendendo gli smeraldi adesso Steph finalmente sono riuscito a fare Quello che volevo fare Nell'inizio dell'episodio Non possiamo finire così Fere E' morto il mio amico cavallo Sono esploso all'incirca 13 volte Consolini Contattele In tutto il video Dai Steph E scrivete nei commenti Quante volte sono esploso La bedrock per coprire il letto Devo continuare Per poi farmi la spada E venire a ucciderti Devo continuare A un certo punto Esploso pure il punto dove spawnavo Ho iniziato a cadere all'infinito Non ho mai trovato dei blocchi Non ho mai trovato un'arma Non ho mai trovato delle armature Non ho mai trovato nulla Che potesse essere utile Mi stava andando tutto bene Quindi Una volta non mi fai assaporare Neanche la vittoria Qui sotto ci saranno altri video Iscrivetevi al canale E ci fermiamo così Sì Non ho mai trovato nulla